ciao a tutti oggi presentiamo un Garrett by Honeywell gt 2259 con sistema anti surge è un turbo che spesso ci viene richiesto per elaborazioni su veicoli con cilindrata dai 1.300 ai 1.600 cm3 in particolar modo per applicazioni su uno turbo punto gt reno 5 e la gamma abarth t jet come sempre procederemo con lo smontaggio la pulizia e la revisione abbiamo proceduto alla pulizia e alla sabbiatura adesso il prossimo passaggio sarà l'assemblaggio e il test lavoro di questo gt 22 è giunto al termine con una revisione ad hoc il montaggio sarà semplicemente tramite un downpipe apposito e una flangia questo turbo mantiene oltre 270 cavalli in totale attirabilità